Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. In questo nuovo video parliamo di Edoardo Donamaria, Droiette. Come ben saprete, Droiette è sbarcato su tutte le piattaforme digitali con un nuovo singolo sbadato il 7 giugno scorso. Dopo l'uscita del nuovo singolo, l'attesa per il video ufficiale è stata breve. Infatti, l'otto è stato pubblicato su YouTube. E se dopo due giorni le visualizzazioni erano ben poche, in 5 giorni ha raggiunto i 100.000 ascolti. Droiette in un post ha ringraziato i suoi fan, scrivendo che è solo grazie a voi. Intanto continua con le sue dirette e nella sua ultima ha parlato di complotti, veganesimo e religione. Lo avete seguito? E invece dei rumors di una possibile frequentazione tra lui e Carolina Russo Pettinelli, cosa ne pensate? La notizia è stata smentita, ma vogliamo conoscere la vostra opinione al riguardo. Inoltre, abbiamo anche un'intervista di Droiette fatta da iMusicFan. E ora ve la raccontiamo. È stato chiesto a Droiette da cos'è stato ispirato questo nuovo brano, da quale emozioni e sentimenti? E lui ha risposto. Diciamo che quando finisce una storia d'amore ci possono essere tante reazioni diverse. Credo che dipenda anche un po' da come si è vissuta sia la storia e soprattutto da come è stata gestita la fine. Molto spesso le relazioni finiscono perché non si è riusciti a trovare un punto in comune, magari non si è lottato abbastanza per questo. Sbadato, parla un po' di quel tipo di storia d'amore che porta ad avere dei rimorsi e dei rimpianti. Poi, alla domanda, è più difficile lottare per mantenere in piedi una relazione o è più difficile rialzarsi dopo una rottura? Droiette ha risposto. Beh, mi è capitato più di ritrovarmi a lottare per uscire dopo aver chiuso una relazione. Diciamo che le mie relazioni passate sono state, soprattutto questa alla quale è ispirata questa canzone, influenzate da comportamenti un po' infantili, che di conseguenza hanno portato alla fine della storia. Poi, io sono uno abbastanza cinico, dico sempre che il 90% dei rapporti sono destinati a finire, fatta eccezione del legame con la donna della tua vita. Anche i matrimoni molto spesso finiscono. Quindi, è più facile che mi ci sia ritrovato nella seconda situazione, a dovermi rialzare. E ancora, pensi che l'esposizione mediatica possa essere più un vantaggio o a volte ti è capitato di avvertirla come un ostacolo per via magari di qualche pregiudizio affrettato? Droiette risponde. Guarda, sinceramente, entrambe le cose, nel senso che, come hai detto te, far parte del mondo dello spettacolo ti consente appunto di avere già un gruppo di persone che ti conosce e che segue i tuoi progetti. Dall'altra parte, però, rischi di rimanere quello della televisione, quello che ha fatto quel programma lì o che lavora per quella radio là, è mai un artista. Questa è una cosa che si nota, però, diciamo, che sono facce opposte della stessa medaglia. In quasi tutte le cose credo che ci siano i pro e i contro. Tutte le scelte lavorative le ho prese in maniera più o meno consapevole, quindi mi prendo di conseguenza sia il buono che il meno buono da ogni situazione. Poi gli è stato chiesto, hai imparato qualcosa fino ad oggi dalla musica? Lavorando, ho imparato che è importante lasciarsi andare ed è importante affrontare le proprie paure. Io sono una persona molto ansiosa. Prima di salire su un palco rischio tipo 6 o 7 attacchi di panico ogni volta. Cerco di mantenere la calma anche prima di pubblicare una canzone. All'inizio pensavo sempre che qualcuno mi avrebbe massacrato, invece poi non succede mai nulla di irreparabile, quindi è importante buttarsi, affrontare i propri timori e soprattutto prendersi il rischio di fallire. Sbagliare è importante per arrivare al successo, perché non si arriva da nessuna parte se non ti è capitato di cadere almeno una volta. L'importante è rialzarsi e andare avanti sempre a testa alta. Il nuovo brano di Droiette racconta la fine di una storia d'amore, che sfuma in un momento in cui si è troppo distratti per comprendere appieno il valore di ciò che si è perso. Dopo aver rimorso le tracce di un passato ormai svanito, ci si trova di fronte alla necessità di ricominciare da capo, trovando la forza di rialzarsi ma allo stesso tempo concedendosi il tempo necessario per farlo. Sbadato è una canzone che racconta un amore che finisce quando sei troppo giovane per capire ciò che stai perdendo nel momento in cui lo perdi. Sei sbadato, svogliato e troppo pigro per combattere e dopo qualche mese ti ritrovi a riflettere su ciò che avresti potuto avere, guardando le foto sul tuo telefono. Cancelli le foto e i video e provi ad andare avanti. Se non hai lottato per tenere una donna che ti amava, devi lottare per rialzarti, ma nel frattempo resta un po' sul divano perché sono collassato e non risponderò al telefono. Spiega Troiette. Ora mi chiedo che c'ho, me lo chiedo da un po' se mi guardo allo specchio e da un po' che ci penso. Non trovo risposte però, tu non ti preoccupare. È presto per chiamare, resto un po' sul divano perché ho collassato, non risponderò al cellulare. Ho visto il tuo sorriso e quando ci ripenso vedo gli sguardi incrociarsi, in quel parco lontano dagli altri e vorrei sbattere la testa contro il muro di rimpianti che mi lascia abbattere ormai senza te. E si cresce anche così, almeno pare, ma se vuoi più tardi lo sai, mi puoi richiamare. Ed ho pensato, lascia stare, di sti tempi perdo tempo solo a litigare. E se ti cerco quando guardo il mare, cosa troverò? Al massimo un tramonto. Ora mi chiedo che c'ho, me lo chiedo da un po' se mi guardo allo specchio e da un po' che ci penso. Non trovo risposte però, tu non ti preoccupare. È presto per chiamare, resto un po' sul divano perché ho collassato, non risponderò al cellulare. E anche stasera resto qui, che arriverà di nuovo un altro lunedì. Pensa che vita di merda. Inizia sempre nello stesso modo, da quando ti ho persa ed ero un giorno come un altro, niente di strano. Se non fosse che da allora non mi hai più cercato. E di sicuro sì, dei due ero quello sbadato. E sto telefono del cazzo me l'ha appena ricordato. È arrivato il momento di cancellare quelle memorie che il cervello non vuol ricordare. E se di certo ora non sei più mai, mi volta le spalle pure la tecnologia. E se ti cerco quando guardo il mare, cosa troverò? Al massimo un tramonto? E se ti penso, quando suona il temporale, che farò? Quando lo so, te lo racconto. Ora mi chiedo che c'ho, me lo chiedo da un po' se mi guardo allo specchio e da un po' che ci penso. Non trovo risposte però, tu non ti preoccupare, è presto per chiamare. Resto un po' sul divano perché ho collassato, non risponderò al cellulare. Questa l'intervista di Troiette è il testo della sua nuova canzone. Fateci conoscere la vostra opinione e se non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati. Grazie e a presto! Ciao! 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 Ciao!